e benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo facciamo un'inquadratura facciamo un'inquadratura ecco qua l'inquadratura che prevede anche un pezzetto di simbolo se lo volete anche da quest'altra parte possiamo farlo così l'inquadratura volendo oggi non so perché non l'abbiamo indovinata pienamente forse va messo un po più lontano eccoci qua e allora cara meri rossi sempre la prima ad arrivare insieme a giovanni barbaro alessandro buralli ivan manzato alessandra tumino stefano tommaso e danilo bassan buongiorno a tutti voi primissimi a collegarsi con la puntata di oggi di stampa evangelo insieme a flaminia longobardi e a frank gordon e a gabrielle marconi e ringrazio e abbraccio sempre bello il nostro simbolo al contrario il popolo della famiglia scritto holopop saluta stefano stefani c'è anche costanza miliano oggi diretta un saluto a costanza un abbraccio a costanza miliano un saluto a simon petro carta alessandro bagagli nicolò marino manila mattei sono già tantissimi di primissimo mattino silvia lodà annunziata mastrolia marilisa tessari allora celebriamo una giornata importante oggi 8 febbraio per la prima volta andremo su un telegiornale bene sì dopo sette giorni di par condicio appena registrato 30 secondi non vi aspettate niente di che mal tg3 tg3 nazionale di stasera ore 19 quindi abbiamo il primo spazio su un telegiornale nazionale finalmente nonostante la par condicio ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ieri al coordinamento romano conclusosi a tarda sera stefano dice ma tu non soffri il freddo a forli eri in maglietta dice stefano tommaso beh sono stati in maglietta in condizioni anche molto più rigorose qualche volta in maglietta e calzoncini anche durante questa campagna elettorale voi sapete gli orsi bianchi quelli che vivono al polo nord dove fa freddo davvero non è che hanno mica il piumino di moncler diciamo insomma se la cavano con i lipidi cioè con i grassi per restare a un tema che è andato di moda in queste ore saluto romana cordova saluto giovanni mazzotta qui ci vediamo domani ad ancona alle ore 15 prima di essere poi accompagnato dallo stesso giovanni mazzotta in quel di perugia dove invece ci vedremo alle ore 21 è arrivato anche danino leonardi un abbraccio a maria pia di gerolamo a maria rosa ferraresi ad anna fiorella amendola e allora dopo la bella notizia della paginata sul corriere della sera abbiamo avuto la bella notizia della apparizione finalmente al telegiornale domani a stasera anzi stasera proprio al telegiornale nazionale cominciamo ad avere un protagonismo sui media in maniera abbastanza rilevante ma non conta nulla non conta nulla se non facciamo votare il popolo della famiglia con i famosi bigliettini che ormai stanno girando in tutta italia e che devono diventare da milioni di bigliettini stampati almeno un milione di voti e questo è quello che abbiamo come obiettivo per fare tutto questo stiamo informando su una campagna elettorale che è anche abbastanza triste una battaglia elettorale campagna elettorale con renzi che oggi cazzi a gentiloni sui giornali perché non fa campagna elettorale quello gentiloni mica è fesso gentiloni non vuole rimanere travolto dal disastro ecco mirco de carli dopo tre tappe in toscana ho visto emergere anche belle notizie dai giornali toscani bravo mirco e brava tutta la truppa toscana del popolo della famiglia saluto anche giovanna amato don francesco colamonaco tra i firmatari dell'appello di 200 sacerdoti religiosi e religiose a sostegno del popolo della famiglia 200 coraggiosissimi perché si sono messi in gioco ovviamente hanno beccato gli strali e le minacce vere e proprie c'è un signore che ha cominciato a fare arrivare delle lettere anonime ai vescovi che poi anonime non solo perché le sono firmate costanza ad inolfi nonostante tutto questo nonostante la firma costanza ad inolfi nonostante le lettere anonime contro il popolo della famiglia e contro i sacerdoti firmatari dell'appello pensate su 200 solo uno ha tolto la firma dall'appello dopo le pressioni ricevute quindi ho detto all'amico magari non fare più costanza ad inolfi prova una lettera anonima firmata che ne so mario miriano eh potessi scrivere ai vescovi con mario miriano vediamo se funziona meglio di costanza ad inolfi a proposito di miriano ad inolfi perugia domani è l'appuntamento cruciale alle ore 21 presso l'hotel plaza la perugia dall'altro la nostra costanza quindi andiamo a rendere omaggio ai luoghi natali diciamo così giampiero bonfanti ecco gli amici di monza sarò a monza il 20 di questo mese il 20 febbraio e saluto dunque tutti tutti mi chiedono l'elenco aggiornato dei sacerdoti ora mettere l'elenco aggiornato vuol dire esporli alla fucilazione noi abbiamo messo l'elenco dei promotori dei 63 promotori abbiamo messo anche un elenco di quelli diciamo più solidi ne proteggiamo alcuni perché alcuni non li vogliamo esporre alla dimensione pubblica finché la situazione non sarà del tutto consolidata insomma avete circa 150 nomi già presenti sulla 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 croce sul sito d'orcoliano la croce trovate l'elenco con le firme aggiornate alcuni li stiamo proteggendo per evitare che abbiano dei guai da queste maledette lettere anonime come dice alessandra mondelli veramente ridicoli almeno firmatevi col nome o col cognome vigliacchi che non siete altro per mettere diciamo in difficoltà dei sacerdoti dei religiosi delle religiose che sono coraggiosi quindi mi raccomando cercate di essere un pochino più degni anche quando provate a fare gli infami l'infamia si può fare in maniera infame totale da vigliacchi mandando le lettere anonime lo ripeto oppure farle in maniera seria si fa battaglia a viso aperto e chi ha ragione prevale di solito tendenzialmente angela ciconte ci informa che c'è il tour in calabria di gianfranco amato che sta avendo grande successo abbiamo visto anche gianfranco intervistato dalla rai per il tg regionale vuol dire che cominciamo avere questo successo nella battaglia sulla par condicio saluto don mirco bianchi un altro di questi sacerdoti coraggiosi che hanno firmato l'appello per il popolo della famiglia ringrazio natalina minuz che è la prima a notare la mia eleganza la prima puntata in centinaia di puntate di stampa evangelo che faccio in giacca visto che vi lamentavate del look oggi grazie natalina minuz che hai notato che è la prima volta che faccio la puntata in giacca saluto anche giacomo elisa alicia cortelano babac falamachi da milano andrea soffre il nostro meraviglioso emiliano fumaneri e salutiamo anche federico caruso che dice siete quattro gatti non prenderete nemmeno l'uno per cento allora caro federico noi siamo quattro gatti mettiamo la tua ipotesi come buona siamo qui a fare una diretta del popolo della famiglia ma tu sei così disastrosamente solo che di venire la mattina a seguirti la diretta facebook del popolo della famiglia per dire a noi che siamo un pochino di più di te diciamo che siamo noi quattro gatti e stai da solo a me dispiace hai bisogno di attenzioni e noi te le diamo le attenzioni ti diamo pure una carezza ti diamo appunto la risposta alla tua frase messa sulla nostra diretta ma non ci raccontare che siamo noi i quattro gatti noi siamo ecco almeno in questo momento questo preciso istante 155 gatti diciamo così alla fine di una puntata di stampa evangelo si saranno connesse 10.000 persone quindi insomma quattro gatti più qualcuno diciamo sono visto anche arrivare paola belletti la abbraccio la nostra regina del coriniano la croce anna russo bartolomeno d'arangelo daniele bacchi manuela miraglia silvi portalupi e leonora pagano da messina e so che oggi già franco amato valicherà lo stretto e andrà proprio a messina perché oggi c'è l'appuntamento del nostro segretario nazionale a messina saluto raffaele scornavacca andrea dolcini fabbio ceseri mariano aliberti massimiliano padula danielo leonardi dice vatti a fare una passeggiata c'ha ragione caro amico mio caruso fatti una passeggiata c'è una bellissima giornata c'è il sole dai su adesso stare su facebook per andare a disturbare i quattro gatti mi sembra davvero qualcosa di eccessivo noi invece ti faremo sentire se resti in connessione la bellissima pagina di vangelo di oggi sempre dal vangelo di marco intanto giovanna ci informa che il 28 febbraio ha estorto la mia presenza a bolzano quindi mi allontanerò dalla capitale da qualsiasi collegio in cui si è impegnato e vado dall'anda più lontana d'italia vado a fare campagna elettorale come giusto anche con i manici del trentino alto adice poi sapete ho visto il programma in lingua tedesca del popolo della famiglia mille euren für mütter è il nostro diciamo slogan del reddito di maternità 1000 euro für mütter e ho detto vabbè non possono andare a bolzano il 28 febbraio dunque abbraccerò anche gli amici del trentino alto adice compresi quelli di lingua tedesca a cui dirò 1000 euro für mütter e questo dovrebbe dare spero una qualche stura al consenso di lingua tedesca nei confronti di popolo della famiglia mi impegnerò insomma per imparare gli slogan in tedesco grazie a giovanna arminio per il lavoro che fa anche sul trentino alto adice romina giacomini ricorda chi scrive che siamo quattro gatti che abbiamo già raggiunto oltre 43 mila firme quindi proprio quattro gatti più 43 mila diciamo così non vi ho detto che per non essere quattro gatti la cosa migliore è fare mi piace alla diretta se vi piace vi interessa e volete difendere dagli haters con un algoritmo più forte possibile condividerla sul vostro profilo condividete la ora sul vostro profilo perché stiamo per andare a leggere il vangelo di oggi è davvero una pagina bellissima e straordinaria facciamola sentire a più persone possibili oltre a condividere il vangelo sul vostro profilo condividere la diretta di stampa e vangelo sul vostro profilo adesso facciamo anche l'invita amici cioè potete invitare tramite i vostri contatti whatsapp tramite messenger direttamente tramite facebook fate invita amici e invitate le persone a seguire la diretta questo ovviamente nel momento in cui leggiamo il vangelo del giorno ci darà un momento di massimo ascolto a quella che è diciamo la pagina fondamentale della nostra rassegna stampa noi facciamo una rassegna stampa tutti i giorni che abbiamo una pagina fondamentale quella di un testo scritto duemila anni fa che però rimane fondamentale sempre fondamentale e illumina il nostro cammino lo fa anche oggi siamo nel vangelo di marco settimo capitolo i versetti sono quelli che vanno dal 24 al 30 partito di là andò nella regione di tiro e di sidone ed entrato in una casa voleva che nessuno lo sapesse ma non poté restare nascosto subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo appena lo seppe andò e si gettò ai suoi piedi ora quella donna che lo pregava di scacciare il demonio della figlia era greca di origine sirofenicia ed egli le disse lascia prima che si sfamino i figli non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini ma essa replicò sì signore ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli allora le disse per questa tua parola va il demonio è uscito da tua figlia tornando a casa trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato parola il signore davvero impressionante per bellezza per durezza per certi versi questa frase di cristo no sui cagnolini politically incorrect totale insomma no che dice il vangelo la pagina volemose bene guardate quanto è forte e mette a prova la fede di ognuno la durezza anche del vangelo e davanti a questo però la risposta è per questa parola va per la tua fede sei salvata per la fede è salvata tua figlia e dunque noi dobbiamo essere sempre essere dobbiamo sempre essere consapevoli di questa forza che deriva dalla nostra fede la nostra fede può davvero scacciare il demonio può allontanare il male ovviamente supportati da soli non potremmo nulla ma supportati dall'incontro con cristo questa è la bellezza di questa pagina supportati dall'incontro con cristo anche se evidentemente indegni possiamo tutto possiamo davvero tutto questo è il percorso che deve spiegare tutto ciò che facciamo tanta fede il male intorno a noi forse il male dentro di noi per scacciarlo un incontro una richiesta d'aiuto anche se non siamo degni ecco tutto questo mi pare evidentemente una indicazione come sempre di strada e di via da seguire da parte del vangelo di oggi arrivato Don Salvatore Vitiello sempre appello dei 200 sacerdoti religiosi e religiose grazie a Don Salvatore Vitiello ieri una bellissima intervista di Don Salvatore Vitiello per dare la diciamo il sapore anche delle ragioni per cui si aderisce a quell'appello lo trovate appunto sulla croce si vi abbonate alla croce date una mano quindi alla nostra campagna anche leggendo il nostro quotidiano trovate dunque l'intervista a Don Salvatore Vitiello che è estremamente esplicativa della forza di quel appello che è stato poi abominato da queste lettere anonime firmate Costanza di Nolfi inviate ai vescovi appunto con questa formula allora dobbiamo cercare di capire che la prossima le firmeranno Mario Miriano ma la stesso non avranno l'effetto sperato perché i sacerdoti restano ben saldi nella firma a quell'appello che è una firma su un appello valoriale che indica un pericolo e chiama al discernimento quindi davvero non si può far altro che apprezzare questo tipo di appello di cui siamo davvero grati allora Angelo Vittorio dall'Estro mi chiede desidero sapere dove vi collocate per un eventuale voto come è noto noi siamo alternativi lo leggi qua sopra l'alternativa c'è lo legge al contrario ma è il nostro slogan noi siamo alternativi alternativi vuol dire che non siamo né col cento destra né col cento sinistra né col 5 stelle noi andiamo da soli alle elezioni e chiediamo voti sul nostro simbolo Don Salvatore Vitiello sull'appello dei 200 dice stato politically incorrect ma è stato vero ed entusiasmante ed effettivamente così chiamate gli osti sacerdoti religiosi religiosi amici a firmarlo per firmare l'appello basta scrivere un email a lacroce quotidiano chiocciola gmail.com lo ripeto lacroce quotidiano chiocciola gmail.com come dice ninnarello mi farei prete per firmare l'appello ecco adesso trovate qualche sacerdota amico in più che lo firmi e fate mandare la firma a lacroce quotidiano chiocciola gmail.com allora il Mirco Bianchi Don Mirco Bianchi oggi alle 14 farà una diretta speciale con la lettura dell'appello grazie a Don Mirco Bianchi parroco di Gatteo a mare grazie davvero per la lettura dell'appello che farà oggi in diretta con una appunto esposizione personale grazie Don Mirco grazie a Poggi Ruppi che ricorda l'email a cui inviare le firme di sacerdoti religiosi e religiose non mi fate la vostra firma noi laici diciamo così non possiamo firmare l'appello dei sacerdoti quindi mi raccomando fate arrivare questo tipo di indicazioni ho visto Ester Corona notare che giacca e capello ribelle fanno molto figo grazie Ester Ester Corona ieri durante la riunione del coordinamento romano ieri abbiamo anche fatto l'appoggio ufficiale a Sergio Pirozzi anche lui autonomo dalle coalizioni alle elezioni regionali del Lazio ci è venuto a incontrare allora dice Salvatore Vitiello scusate fatemi leggere oggi un superiore della Curia afferma che la Cina sarebbe la migliore realizzatrice della dottrina sociale della Chiesa quindi nessuno può dire nulla nemmeno Costanza di Nolfi ecco appunto dopo che girano cose del genere veramente il nostro appello è acqua fresca e tra l'altro Don Salvatore fa anche il link a Asia News per leggere questa notizia abbastanza surreale dicevo Ester Corona ieri durante questa riunione del coordinamento romano ha posto sul tema del voto utile secondo me la domanda perfetta da fare a chi ci dice ah perché voi se voto voi butto il vostro voto voglio dare un voto utile la risposta la domanda che pone Ester Corona agli interlocutori è sì vabbè voto utile ma utile a chi ecco questo punto di domanda è estremamente interessante quando vi chiamo dal voto utile usate la formula il lodo Ester Corona utile a chi e così capiamo utile a Silvio Berlusconi modello come sapete di morale di di prospettiva valoriale di difesa dei diritti peccato che ormai ci abbia i parlamentari che gli vanno al Gay Pride e il Gay Pride ce l'ha pure dentro casa diciamo quindi un po' difficile scegliere quel tipo di strada utile a chi voto utile a Matteo Salvini quello della prostituzione legalizzata quello che fa capolista in cinque circoscrizioni Giulia Buongiorno cioè una che inneggia la legge Cirinà usa la fecondazione eterologa voleva cancellare la legge 40 è a favore della legge Scalfarotto e ci volebbe mandare in galera utile a chi utile alla quarta gamba a Maurizio Lupi che per chiarità ottiene sì la paginata su avvenire ma non il nostro rispetto non credo il rispetto dei cattolici avendo voltato Gabbana dopo essere stato ai Family Day 20 giorni dopo votava a favore della legge Cirinà allora questo voto utile è utile a chi spiegatecelo se deve essere un voto utile per la vostra famiglia per i valori in cui credete per la vita e la difesa della famiglia naturale per difendere davvero i nostri figli quello è il voto utile e quel voto utile si dà al popolo della famiglia come con un semplicissima croce una sola croce sul simbolo del popolo della famiglia utile sì ma utile per davvero utile a voi stessi alla vostra famiglia i vostri figli a questo paese utile per tutta una comunità che ha bisogno del voto utile quel voto utile il voto al popolo la famiglia per far sì che non ci sia utile a chi al centro-sinistra che vuole stare sempre al governo con l'inciucio utile a chi al movimento 5 stelle che copia i programmi da wikipedia vorrebbe fare gli inciucio ormai anche lui con la lega e col PD allora signori noi dobbiamo fare davvero davvero un lavoro di spiegazione alle persone che incontriamo dicendo che se vogliono dare il vero voto utile il vero voto utile si dà al popolo della famiglia perché è solo il popolo della famiglia che garantisce su quei valori e soprattutto rompe quegli equilibri che altrimenti porteranno come sempre al centro-sinistra al governo se tutti quelli il voto utile scrive Damiano Toppi si buttassero e diventassero quelli del voto al pdf avremmo almeno il 5 per cento e quindi utilizziamo bene questo tipo di argomento noi non ci alleiamo con nessuno perché se lo spiego anche ad Anna Russo che mi chiede di ripeterlo perché se resta questo equilibrio quello delle coalizioni che vedete in campo l'esito inevitabile del rosatellum di una legge fatta apposta che ha cancellato il premio di maggioranza è quello di andare all'inciucio quindi noi dobbiamo rompere l'inciucio mettendo un elemento di imprevedibilità nell'esito elettorale qual è l'elemento di imprevedibilità l'elezione di decine di parlamentari del popolo della famiglia sarebbero l'elemento di imprevedibilità quello che nessuno attualmente considera ed è per questo che cominciano a percepire che c'è questo elemento di novità che noi stiamo attraendo in entrata voti da tutti gli schieramenti politici perché stanno capendo e quello slogan non è solo uno slogan davvero l'alternativa c'è davvero l'alternativa c'è e si chiama popolo della famiglia Federico Caruso dice non vi alleate con nessuno e quindi in Parlamento non entrerete non è così basterà superare il 3% se superassimo il 3% cioè un milione di voti noi avremmo accesso con decine di parlamentari non due o tre eh decine di parlamentari alla Camera e al Senato e questo cambierebbe tutto ricorda bene Mauro Chialasti che dobbiamo fare campagne elettorali sul simbolo cioè fare la croce sul simbolo eh e non campagne elettorali personali questo è ovvio eh saluto Federico Lupi dall'Abruzzo sarà Teodati ieri protagonista Giuseppe Brienza della giornata con Sergio Pirozzi Angelo Vittorio dall'Estro dopo la mia risposta dice convinto sono dei vostri bene un voto recuperato da Stampevangelo grazie Angelo che fai vedere a cosa servono queste dirette dirette che parlano ogni giorno a diecimila persone e chiedo poi adesso ad Angelo Angelo non fare solo quello che vota per il popolo della famiglia ma diventa anche una persona che fa votare per il popolo della famiglia quindi questo è il lavoro che noi dobbiamo fare vedete Angelo arriva non convinto ascolta le nostre parole si convince ora Angelo può diventare un diffusore del messaggio del popolo della famiglia questo tipo di lavoro farà sì che il popolo della famiglia diventi il partito del 3 4 5 per cento se faremo questo tipo di lavoro prendere le persone parlare loro e chiedere loro di parlare a loro volta ora questa è anche la ragione per cui dovete condividere sulla vostra pagina questa diretta perché questa diretta ha la forza di convincere alcuni che ci vengono ad ascoltare di votare per il popolo della famiglia quindi per favore fate un mi piace alla diretta in questo momento fate un condividi sulla vostra pagina della diretta in questo momento invitate gli amici a partecipare alla diretta venire ad ascoltarla e lo potete fare pubblicando il link della diretta sulla vostra pagina whatsapp a tutti i vostri contatti whatsapp e messenger o anche invitando direttamente con invita amici la le persone a seguire la diretta stessa perché questo è l'elemento importante del lavoro che stiamo facendo corrado papini dice non volevo votare da oggi voto per voi in realtà avete fatto anche un collegamento a radio 24 che è stato una prova no abbiamo fatto un un illustrazione del programma radio 24 pattino pochi secondi dopo la fine del programma della mia intervista una persona ha telefonato dicendo io avrei votato comimento 5 stelle ma ascoltando queste proposte del popolo della famiglia voterò popolo della famiglia questo è il lavoro che noi dobbiamo svolgere però facendo arrivare il nostro messaggio come arriva il nostro messaggio arriva con i piccoli strumenti che adesso sono nelle vostre mani arriva con queste dirette che sono sempre più seguite ricordiamoci una settimana parliamo a circa 50 mila persone su solo su stampa evangelo a oltre 100 mila su tutti i programmi da pdf tv dunque facciamo davvero quel lavoro che serve anche a rincuorarci come dice maddalena montanini grazie quando ti ascolto mi rincuori questo dobbiamo fare essere anche molto coraggiosi e convinti della possibilità di ottenere il punto che ci siamo messi come obiettivo saremo lago della bilancia in parlamento dice raffaele scorna vacca questo è l'obiettivo che dobbiamo compiere marco failaci quanti voti inutili abbiamo dato sinora bravissima ottima domanda è arrivata anche fiorenza pasini nostra colonna nella città di brescia città dove sarò presente il primo marzo per andare a salutare anche il mio collegio elettorale sono candidato in sardegna nel lazio e a bergamo brescia come collegio senatoriale quindi il primo marzo tornerò a brescia dove sono stato pochi giorni fa il 21 invece sarò a bergamo che l'altra città del collegio andrea cataldo dice sbalorditivo come se parli alla gente del pdf che non conoscono si interessano quasi tutti questa è la chiave andrea questo è quello che dobbiamo fare dobbiamo parlare alle persone tutti noi siamo 43 mila aver firmato le le liste pensate se tutti noi oggi facciamo il lavoro di convincere le due persone che ho convinto io in questa diretta ne abbiamo convinte due in questa diretta cioè in 20 minuti di lavoro se tutti noi facessimo questo lavoro oggi avremmo 100 mila voti in più anzi 86 mila 87 mila voti in più ed è importante lo capite farlo fai tutti i giorni altro che un milione di voti dobbiamo fare questo lavoro allora dice bene vito condividiamo la diretta marco berardi dice nei dg non vi danno neanche un secondo di spazio è vero oggi però ci conquisteremo i primi 30 secondi del tg3 nazionale poi piano piano qualcosa otterremo ma comunque i voti si prendono non dalla presenza nel tg i voti si prendono dal contatto personale se noi non facciamo questo lavoro non riusciremo mai a ottenere il risultato pieno lo iacono chiede il mio parroco vuole sottoscrivere il programma il pdf cosa deve fare avrò detto un milione di volte lo ripeto per firmare l'appello del pdf dei sacerdoti basta fare una email a lacroce quotidiano chiocciola gmail.com lo ripeto lacroce quotidiano chiocciola gmail.com si manda un'email e lì possiamo realizzare dunque il la presa del nome e lo mettiamo nell'elenco quindi ogni sacerdote religioso o religiosa che voglia firmare l'appello al sostegno al popolo della famiglia può e deve se vuole mandare l'email a lacroce quotidiano chiocciola gmail.com un voto alla volta davvero tiziano maccioni ricorda che vengo a prendermene qualcuno anche in sardegna il 16 vengo a cagliari per dare un aiuto anche alla splendida squadra del pdf sardo alessandra mondelli dice combattiamo una battaglia non personale non per il nostro nome questo piace alla gente per noi anche una scelta di libertà esattamente dice bene alessandra mondelli stefano gardini ha detto appena chiesta un amico che voterà per noi ma è timido se mi organizza un incontro con i parrocchiani suoi amici a sorpresa mi ha detto di sì e che è contentissimo di farlo osiamo dice stefano gardini vedete e da questo può partire un'onda andrea ci sfotte dice che dici puntiamo al 40 per cento no magari il 40 per cento no ma se facciamo questo lavoro lo facciamo davvero ogni giorno ogni minuto ognuno col suo stile vedo lorenzo damiano vedo giuseppe dice quando viene a bari è appena stato gianfranco amato a bari io sono venuto qualche giorno fa c'è gabbiane marconi a bergamo gli aspettiamo il 21 l'ho citato lupi c'è stato l'altro ieri sera in una conferenza in cui invitava la responsabilità civile partendo dal discorso di papa francesco maurizio lupi senza vergogna veramente allora cara marisa tessari dice se tutti i cattolici fossero così allora sarebbe tutto un altro mondo intanto facciamo diventare un altro mondo quello che viviamo attraverso il nostro impegno facciamo davvero quello che si può fare con il nostro impegno personale a sfidare tutto ciò che è difficile sfidare cioè il politica di correct il silenzio dei media la difficoltà tecnica e faticosa persino le nostre timidezze le nostre limitazioni fisiche però superiamole facciamolo superiamolo perché c'è tanto da fare rosa grazia pellegrino dice in basilicata in basilicata oggi c'è la conferenza stampa di marco fasulo con i candidati andate a seguirla tutti mi chiedono in sicilia ragazzi sono rimasti 22 giorni di campagna elettorale i collegi sono 97 io sono uno e devo fare anche la comunicazione nazionale perché altrimenti non andiamo da nessuna parte quindi capirete che andrò in campagna elettorale in pochissimi luoghi per eventi super affollati per il resto dovrete fare con i candidati con le squadre che sono sul territorio presentare loro sono loro che devono essere presenti e fare iniziativa paolo quantù dice parlavo con una mia amica cattolica praticante di elezioni mi dice che non vota per nessuno gli parlo del popolo della famiglia resta stupita che a dinolfi amato hanno fatto un partito ecco così si recupera un voto facendo sapere che esistiamo lo sapete che 90 persone sul 100 non sanno che il popolo della famiglia esista cioè quindi dobbiamo fare come capite un lavoro enorme in questi 20 giorni e questi 20 giorni li facciamo con grande impegno cercando prima di tutto di far sapere che esistiamo poi come dice marzia magagnin devono votarci tutti non solo i cattolici la famiglia è valore fondante per la società bravissima marzia è assolutamente una riflessione giusta il tg3 nazionale di questa sera dovrebbe essere le 19 lo dica maria marroso che chiede nell'edizione delle 19 dovrebbe esserci un primo passaggio di qualche trentina di secondi per il popolo della famiglia giusi casiello dice tanti mi stanno ringraziando per avergli fatto conoscere il popolo la famiglia sono quelli che non avrebbero votato altra questione importante tanti sono disillusi non vogliono votare i soliti partiti sono disillusi anche al movimento 5 stelle perché l'hanno visti al governo vorrebbero astenersi bene noi siamo l'alternativa c'è scritto qui vedete l'alternativa c'è sul nostro manifesto e noi siamo un'alternativa valoriale che davvero diventa una ragione per andare a votare ed è importantissimo fare questo tipo di lavoro perché come dice bene maria rosaria novello chi non è presente sui social ne sa ben poco del popolo la famiglia dunque li dobbiamo incontrare di persona di persona floriana ceccarelli dice noi con le famiglie numerose i figli maggiorenni abbiamo incontrato molte persone questo è il modo punto anche per allargare il livello di consenso lugaro dice bisogna andare in tv non solo maria di rolfi ma anche amato di matteo de carli farsi vedere farsi conoscere ragazzi le tv non abbiamo la proprietà delle tv le tv andiamo quando ci invitano che è sempre raro ci prenderemo tutti gli spazi evidentemente ogni volta con ogni volto disponibile per esempio ho visto pirco de carli fare un'ottima intervista al tg3 della toscana che è andato in onda ieri ho visto gianfranco amato fare un'importante intervista al tg3 della calabria quindi vuol dire che qualcosa davvero si sta muovendo arriva giuseppe busterna e chiede qual è il tuo programma il nostro programma è di 65 punti lo trovi su www.elpopolafamiglia.it cuore del programma investimento sulla cultura della vita e rilancio della nazione attraverso l'investimento sulla famiglia sulla famiglia naturale sulla mamma con il reddito di maternità con il quoziente familiare con la libertà scolastica con tutto ciò che evidentemente caratterizza il nostro programma visitabile e leggibile con 65 proposte operative concrete per rilanciare il paese www.elpopolafamiglia.it slash programma abbastanza facile www.elpopolafamiglia.it slash programma ci da anche il tg3 umbria domani sera a perugia per l'iniziativa del popolo della famiglia corrado papini c'è un fulminato sulla via di facebook come posso aiutarvi fattivamente fattivamente la prima cosa che devi fare è condividere questa diretta dire a tutti i tuoi contatti sia whatsapp che messenger che esiste questa opzione che è il popolo della famiglia far arrivare loro il nostro simbolo e dire loro guardate c'è anche questa alternativa per votare il 4 marzo si può votare il simbolo del popolo della famiglia saluto anche federica lustrissimi saluto vito pietro loporcaro ania gold guglielmo renzo che dice mario tempo fa usato il preservativo rischio di andare all'inferno guglielmo renzo fa la domanda provocatoria questi qui che vengono la mattina c'hanno niente da fare vi farei vedere che bella giornata c'è potete farvi una passeggiata ma meravigliosa e straordinaria camminate e respirate forte perché se siete così soli cercare attenzioni nella diretta di stampa evangelo da me dagli amici del popolo della famiglia siete messi proprio male 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 e quindi il mio consiglio è recuperare diciamo coscienza di sé e get a life come dicono gli americani c'è una vita ragazzi fuori da facebook quindi forza forza all'amico che voleva venire qua a provocare noi raffaella greco dice ignorali massimo ogni tanto anche bene spiegare a questi amici la loro possibile strada di salvezza altrimenti continuano a pensare di essere furbi nel fare questo tipo di interventi dunque andiamo a lavorare adesso alla campagna elettorale effettiva lo ripeto stando per strada incontrando le persone guardando nella nostra agenda questo lo dico ai militanti del popolo della famiglia se voi guardate nella vostra agenda troverete sicuramente dei contatti che non vi votano cioè vi conoscono vi stimano magari lavorano con voi sono vostri amici di infanzia di scuola avete delle connessioni e non vi votano o magari neanche sanno che siete impegnati nel popolo della famiglia quindi il primo lavoro da fare è contattare i contatti prossimi e parlare a tutti loro con grazia lucidità lucidità e pagatezza come dice antonella psiche del popolo della famiglia poi dice silvia lodà un'altra cosa importante mettiamo tutti il simbolo del pdf nel nostro fotoprofilo tutti i militanti del popolo della famiglia devono avere il simbolo del popolo della famiglia nella fotoprofilo o anche come fotoprofilo io ce l'ho come fotoprofilo fatelo subito fatelo subito tanto dura 20 giorni per 20 giorni rimettete la vostra bella faccia liftata della foto migliore possibile che avete fra 20 giorni dopo le elezioni adesso fate per favore questo sforzo di mettere il simbolo come vostra fotoprofilo o almeno il simbolo nella vostra fotoprofilo ringrazio paolo voltaggio che è un amico che non è mai stato tenero con il popolo la famiglia che oggi dice state facendo un'ottima campagna elettorale preferisco il modo un po naif creativo e nuovo di tanti candidati del popolo della famiglia piuttosto che tanti tromboni grazie a paolo voltaggio questa tua dichiarazione mi fa molto molto piacere mi fa bene al cuore e noi ti abbracciamo e ti ringraziamo per questa tua forma di sostegno anche morale perché poi sai quanto è faticoso paolo è uno esperto ha fatto anche campagna elettorale è stato eletto quindi sa quanto è faticoso fare tutto questo grazie a paolo voltaggio per l'attenzione intanto monta in sardegna il caso di patrizia cocco la prima morte diciamo così per via eutanasica perché in realtà è un vero e proprio caso di eutanasia di cui si sta discutendo con grande lavoro di alessandra carbonin siamo su tutti i giornali grazie alle dichiarazioni di alberto agus di una lucidità che la estremamente precisa ed è il lavoro che va fatto su casi come questo bravo alberto bravo al pdf della sardegna cerchiamo di far esplodere tutto questo prima o poi anche a livello nazionale saluto anche stefano fusi che ti dice che mi dice io ti stimo sei un grande e come dicono a sky sono solo grosso una battuta anzi a sky hanno pure detto adesso che che non è vero che mi hanno insultato bisogna capire qual è la dimensione secondo loro dell'insulto insomma comunque dopo tre giorni è uscito una nota dopo tre giorni qui si sono accorti che non mi avrebbero insultato roba ridicola insomma per cui aspetto la telefonata del direttore scari g24 di scuse ester corona invece ha appena ricevuto una telefonata da una collega cosa ha fatto tac presa la collega ha cinque figli ottenuti sette voti brava ester corona vedete come cresciamo durante la sola diretta di stampa evangelo guardate come cresciamo federica lustrissimi dice c'è chi dice il pdf sia in realtà un partito personale come possiamo controbattere federica lustrissimi guarda i simboli dei partiti tutti i simboli dei partiti hanno il nome di una persona sopra berlusconi presidente salvini premier meloni grosso così è sul simbolo proprio grasso grosso così sul simbolo noi siamo l'unico simbolo non c'è il nome di nessuna persona papà mamma figli noi siamo quelli che hanno dovuto prendere le firme federica federica dobbiamo prendere le firme ne abbiamo preso 43.000 in 13 giorni e le prendeva dinolfi le prendeva amato 43.000 in 13 giorni vuol dire popolo noi siamo il popolo della famiglia il popolo della famiglia questo siamo tutto tranne dicono non si vede il simbolo è o vedete me o vede il simbolo tutto tranne partito personale insomma davvero tutto tranne partito per siamo gli unici a non avere il nome del simbolo siamo gli unici il capo della forza politica che tecnicamente sono io perché ho versato ho depositato il simbolo non è mai perso nessuna parte siamo il contrario di una forza personale di forze personali sono quelli che hanno il simbolo con il nome grosso nel simbolo berlusconi ce l'ha salvini ce l'ha meloni ce l'ha grasso ce l'ha noi siamo un'altra cosa noi siamo quelli sono andati per strada bonino ce l'ha noi siamo quelli che sono andati per strada a prendersi le firme bonino ha fatto la lagna e non riusciva a prenderle noi le abbiamo prese 43.000 in 13 giorni con queste firme ci siamo candidati come popolo perché noi siamo popolo il contrario di una lista personale noi facciamo firmare per mamma papà e figli e noi siamo sicuramente qualcosa che sta là sicuramente come minimo siamo figli come minimo siamo figli o alcuni di noi molti sono mamme molti sono papà eccolo qua che cos'è il partito personale cioè è fatto da tante persone ma proprio tante 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 che stanno dando l'anima come dice andrea sofer cioè emiliano fumaneri oggi lo schema della politica è leadership forte cerchio magico e club locali chiunque conosca il popolo la famiglia sa che si tratta di tutt'altra cosa siamo proprio l'opposto di quel modello come è evidente noi siamo davvero l'opposto di quel modello noi siamo come dice silvia lodà in campagna elettorale solo per il nostro movimento il popolo la famiglia tutti insieme uniti a testuggine questo siamo noi questo siamo e questo saremo ovviamente sempre se anche dovessimo avere questo grande successo che ci aspettiamo in vista del 4 marzo che ovviamente però deriverà si da un miracolo di nostro signore ma anche dal nostro lavoro a portare questi cinque mani e due pesci da far moltiplicare e moltiplicarli significa avere fede ma anche avere operosità arriva enza capraro che dice anche io voto popolo della famiglia carlo rossi dice mario noi possiamo essere davvero l'alternativa grazie per tutto quello che fai se i valori cristiani hanno qualche chance di sopravvivere nel panorama politico lo dobbiamo a te lo dobbiamo a noi a tutti noi che ci stiamo impegnando grazie a monica consigliere che vedo grazie a federico che dice io sono solo figlio e te dei figli vuol dire sapere cos'è la famiglia e anche portare le ferite addosso federico ricordati le ferite che porto io come porti te derivano da tante questioni e la vita ci insegna ci insegna anche che la famiglia magari a contrario proprio perché abbiamo vissuto dolore in famiglia possa essere e che deve essere della capacità di rendere la forte e serena il bene della società alessandro margiotta dice chiaramente noi siamo in politica per i nostri figli anna scapin siamo quattro figli e sei fratelli convinti 12 voti sicuri e poi una grande famiglia di amici a cui parliamo quotidianamente vedete come si fa come si forma il consenso al popolo della famiglia questo è la modalità con cui si vota per il popolo della famiglia agnese mascellari chiede cos'è il cerchio magico il cerchio magico è la l'entourage del leader renzi che si fida solo della boschi e di lotti berlusconi che si fida solo della chi c'ha adesso la maria rossi o nicolò ghettini ecco quelle sono piccole corti che noi non abbiamo noi non abbiamo la corte noi abbiamo la capacità di aver dato spazio a tutti ognuno col suo lavoro e credo con una qualche credibilità susanne demes dice ti seguo da molto mi piace te tutti i pdf ma ultimamente mi chiedo ma la fregatura ando sta come mi posso fidare al cento per cento la fregatura non c'è susanne la fregatura sono gli altri noi siamo l'antidoto al veleno della fregatura perché ci guardi negli occhi e capisci che siamo sinceri tutti quelli che stanno per strada a far votare pdf lo fanno per la fede per i valori in cui credono per la loro famiglia non c'è nessun altro vantaggio gli altri lo fanno per il posto perché ci hanno il posto a difendere il posto alla poltrona queste non hanno fede non c'è spazio per la fede lì c'è spazio solo per il potere e allora susanne guardaci negli occhi e non puoi che fidarti al cento per cento noi siamo l'antidoto l'antidoto alla fregatura oppure come dice monica vitali l'occasione per non mortificare la coscienza il 4 marzo bravissima monica un'espressione bellissima questa di monica vitale l'occasione per non mortificare la coscienza il 4 marzo voi siete questo cari amici del popolo famiglia avete dato all'italia la possibilità di andare a votare non mortificando la loro coscienza gli elettori che votranno per noi voteranno con il sorriso felici di averlo fatto contro tutto e contro tutti sostenuti dai loro pastori dai 200 sacerdoti che si sono esposti sostenuti dalla fede sostenuti da una gioia che è unica saluto gloria gallarelli che forse una fotografia della gioia di questo tipo di impegno contro il disvalore come dice monica sismondini grazie grazie davvero perché questo siamo noi noi siamo l'entusiasmo che cresce come dice francesco signorile come cresce la voce altri dei sondaggi allora stiamo crescendo davvero ovunque ovunque stiamo crescendo marco berati dice di fregature ne abbiamo avuto abbondante dagli altri altro motivo per fidarsi davvero del popolo della famiglia gianfranco specchia dice grazie mario perché nel popolo della famiglia finalmente la fede diventa proposta culturale roberto manfredi ci sono un cristiano evangelico posso votarvi o vi rivolgere solo ai cattolici non solo puoi votarci non solo non ci rivolgiamo solo ai cattolici ma molti evangelici sono candidati con noi caro roberto manfredi questo non è un partito confessionale è un partito che ha o dei riferimenti chiari ed è aperto a tutte le confessioni religiose ma anche a tanti atei che stanno dicendo o agnostici che stanno dicendo e voteranno popolo la famiglia per il programma il popolo la famiglia per quanto riguarda i fratelli evangelici sappiate ci sono anche molti candidati non solo diciamo tra gli elettori del popolo della famiglia alessandra suppa bellissimo per la prima volta sono felice di votare tutta la famiglia sette voti ecco qua come funziona il voto al popolo della famiglia agnese mascellari 4 marzo finalmente voterò senza durarmi il naso ma contenta questo è quello che stiamo facendo e che alcuni non ci perdonano le costanza di nolfi o le mario miliano che mandano le lettere anonime ai vescovi per denunciare i sacerdoti coraggiosi che si sono schierati con il popolo della famiglia noi siamo l'alternativa dice bene massimo cherubini parliamoci chiaro quale alternativa di voto in un'italia divisa e governata dal marciume senza valori l'unica alternativa è il popolo della famiglia roberto panfredi non sapeva c'erano gli evangelici candidati dunque adesso dice che dio vi benedica immagino che abbiamo recuperato anche un altro voto e come vedete questa diretta funziona per questo per questo dovete condividerla sul vostro profilo farla conoscere a tutti se riuscite a far conoscere a tutti il simbolo del popolo la famiglia state tranquilli che noi il 3 per cento lo superiamo di slancio questo è il nostro lavoro stefano fusi deve andare al lavoro mi segue dopo lo salutiamo lavora sulle linee telefoniche senza le quali non si potrebbe veicolare il nostro proponimento c'è ragione stefano buon lavoro pasquale mazzone dice in questa campagna innalziamo sempre cristo la verità e cristo innalzerà il pdf davvero un abbraccio rannita bianchi che ricorda che io la valtrona l'avevo e l'ho lasciata perché tradivano i miei principi e per questo non può esserci fregatura grazie annita saluto paola perissinotto don salvatore vitiello c'è sul tema delle disposizioni anticipate di trattamento è possibile ottenere molti consensi è una strada da percorrere e assolutamente la percorreremo è arrivato anche il direttore mio lo chiamo sempre direttore il direttore del popolo quando io ero ragazzo pioce rocchi lo saluto con un abbraccio sono lì cominciato a muovere i primi passi nel giornalismo è stato il mio grande direttore appunto nello storico quotidiano il popolo è arrivato a seguire questa diretta lo ringrazio lui è di ambiente di centro sinistra ma spero davvero che vorrà votare per il popolo e la famiglia alle elezioni come vedete le provenienze possono essere le più trasversali possibili ciao grande pio un abbraccio a pioce rocchi saluto giuseppe capezzulo che è pdf di arzano oggi a venire ci fa pure una piccola citazione finalmente nel collegio di acerra dove si scontrano di maio e sgarbi noi abbiamo una candidata 51enne madre di tre figli si chiama gabriella e è la nostra alternativa noi candidiamo una madre di tre figli vicino al family day ovviamente oggi a venire da queste tre righe di citazione ringraziamo marco jasevoli il giornalista di avvenire che ha citato la nostra candidata nel collegio appunto dove si scontrano di maio e sgarbi signori vi ringrazio molto per la diretta di oggi spero che vi sia piaciuta spero che dunque possiate veicolarla attraverso il vostro profilo elena bentini dice oltre a essere presenti in piazza con i gazebo ci invitano anche nelle case a parlare a gruppi di persone lontane la politica rassegnate a non votare o a tapparsi il naso facce prima incredula e poi sorridenti quando scoprono il popolo la famiglia grazie elena bentini per questa bellissima testimonianza lo ripeto facciamo i cenacoli incontriamoci nelle case parliamo a dieci persone per volta e vedrete che la soluzione l'avremo ovviamente quando parlate dotatevi di arma cioè del piccolo biglietto da lasciare a ciascuno con il simbolo e il modo con cui si vota per il popolo la famiglia una croce sul simbolo e lasciate i biglietti alle persone che incontrate chiedendo loro di fare lo stesso con gli altri davvero danilo nonardi ricorda piocerocchi fu un giovane allievo di luciano scaffa maestro di comunicazione per tanti giovani cattolici negli anni 80 danilo nonardi quindi uno di noi mi verrebbe da dire grazie a marco rapetti arriconi a bernarda raucci a beatrice nazarena novelli a paola lunghi a sara scalvini non trascurate la preghiera dice giustamente e lo facciamo sempre un saluto a manuele lo bue all'alessandra tummino agnese mascellari in tv stasera ore 19 tg3 spero all'edizione le 19 io ho registrato per le 19 vedremo a che ora andrà in onda nel caso vi informerò un abbraccio a tutti voi buona giornata ci sentiamo non domani domani non ci sarà la puntata di stampa e vangelo ci ritroviamo lunedì con stampa e vangelo perché domani dovranno un treno molto presto perché i collegamenti tra roma e ancuna non so perché sono impossibili dovranno un treno alle 10 del mattino uscire da casa alle 9 dunque non riuscirei a fare stampa e vangelo ci vediamo con gli umbri alle 21 con i marchigiani alle 15 ci vediamo fisicamente nel senso che domani sarò fisicamente nelle marche e in umbria per due comizi uno ad ancona uno a perugia ancora ore 15 in realtà cominciamo alle 16 alle 15 facciamo una conferenza stampa alle 21 a perugia quindi 15 16 ancona 21 perugia non c'è stampa e vangelo che torna lunedì torna lunedì 12 di febbraio quindi stampa e vangelo torna tra le 8 e un quarto alle 9 come sapete l'appuntamento la congiruppi leuteri dal coordinamento editoriale lo scrive con precisione noi ci ritroviamo lunedì con stampa e vangelo intanto godiamoci speriamo la nostra prima apparizione su un telegiornale nazionale in onda saluto gloria gallarelli che dice ti vogliamo bene grazie davvero una saluta a maria marrosu a bella lavanda che scrive pdf ti amo bella bella scritta complimenti un saluto anche a carlo rossi a gianluigi nardo e a tutti gli amici che hanno seguito la puntata di oggi di stampa e vangelo ci ritroviamo lunedì 12 tra le 8 e un quarto alle 9 come al solito su stampa e vangelo in giro per l'italia invece per fare la campagna per il popolo della famiglia da maria rinolfi una buona giornata a tutti